Lo ha detto con la sua stessa bocca, io non vado via, io vado nel regno del Padre mio, ma sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Questa è la fede che deve animare il nostro cuore, questa è la fede che ha animato quell'uomo che ha le mie spalle e che noi tanto amiamo e veneriamo. In questo è consistita la grandezza di Padre Pio, nell'avere fede in Dio e lui di prove ne ha sopportate nella sua vita, prove che gli venivano da fuori e da dentro. Ha attraversato momenti terribili nella sua vita, di frate e di sacerdote, ma ha sempre avuto la fede in Dio che lo ha guidato e oggi noi siamo qui ad onorarlo come uno dei santi più grandi che ci sono. Questa è la santità, avere fede in Dio e credere che Egli è accanto a noi. Sia lodato Gesù Cristo.